gentili telespettatori buona giornata il segretario della lega matteo salvini sale in cattedra voi direte ma quale cattedra e voi sapete che la lega non è più il primo partito italiano non è più il primo partito nel centrodestra nei sondaggi viene dato anche al 13 per cento in alcuni sondaggi sorpassato anche dal movimento 5 stelle e allora perché salvini alza i toni e dice non accetto le forzature di pd e 5 stelle devono passare da noi perché perché con la scissione del movimento 5 stelle i grillini non sono più maggioranza nella maggioranza cioè non sono più quelli che hanno più seggi tra il governo ma è la lega che ha più seggi e allora salvini dice beh alla fine allora qui dovete le decisioni devono passare da me insomma come vi dicevo ieri insomma draghi ha sempre fatto quello che ha voluto senza considerare nessun partito nessun capo politico adesso che salvini dice si fa quello che dico io perché siamo quelli che hanno più seggi non credo caro senatore che possa funzionare però questo potrebbe essere un atteggiamento assieme a quello di conte per fare a gara chi prima riesce a far saltare questo governo senza essere additati di essere quelli che lo hanno fatto cadere in modo riassumendo fanno baccano sperando che draghi se ne vada senza che poi si possa dire vai colpa sua io non ho detto niente io ho solo fatto presente ecco salvini e conte vogliono fare cadere il governo senza essere accusati di averlo fatto cadere quindi un sistema di logoramento non che non è fatto in accordo ma hanno lo stesso obiettivo e stanno utilizzando la stessa tecnica salvini dice siamo stati fin qui molto responsabili ma sono in tollerabili le scelte le scelte che la sinistra sta attuando sui uscolai e altro e sul vertice del centro destra mi interessano contenuti risultati troviamoci anche a casa mia ma sto in un bilocale insomma lui l'invito l'ha fatto dice visto che si fanno i vertici sempre ad arcore nelle ville con vulcano pizzeria aperta 24 ore io non ho quelle robe lì c'ho un bilocale però per fare un vertice tra tre leader si può anche fare in un bilocale no intanto la lega convoca i deputati e la lega sembra non più disposta a collaborare con pd e 5 stelle che cosa succede chiede un giornalista a matteo salvini oggi e lui dice succede che da papà non da capo della lega trovo in tollerabile un'accelerazione del parlamento sui temi che vuole la sinistra sono stato da diverse parti e poi dopo due anni di chiusure di didattica a distanza di dad ci sono diversi problemi e il capogruppo alla camera della lega Riccardo Molinari dice che così non si va avanti naturalmente le parole di Molinari sono in accordo con Salvini non è che da solo dice così non si va avanti sono accordi con il capo tu di questo tu fai capire questo così facciamo capire che siamo arrivati alla frutta e poi Salvini dice che questa iniziativa di pd e 5 stelle unita alla cittadinanza facile per gli immigrati è un grave attacco al governo e crea una spaccatura drammatica tra le forze che sostengono draghi mentre alla camera la sinistra ha deciso di imboccare questa strada pericolosissima dice in commissione al senato noi abbiamo approvato l'equo compenso atteso dagli ordini professionali c'è una bella differenza non le pare dice Salvini all'intervistatore questa è una giornata spartiacque potrebbe la lega davvero ritirarsi dal governo Salvini dice che l'ultima cosa che vorremmo per questo osserviamo con preoccupazione le continue provocazioni di pd e 5 stelle invece di lavorare in parlamento sull'aumento di stipendi e di pensioni pensano di regalare le cittadinanze e caro Salvini però sull'aumento degli stipendi come fai cuneo fiscale ancora con sta storia del cuneo fiscale sapendo che l'Italia non può rinunciare abbassare le tasse perché non ha poi soldi per pagare i debiti ci siamo no? l'Italia non può fare questo c'è un 20% di persone che guadagnano meno di 1500 euro lordi bisogna portare questo 20% di italiani portarli almeno a 1500 euro lordi al mese questa è l'unica soluzione non continuiamo con sto cuneo fiscale perché non si va da nessuna parte da nessuna parte il governo non può abbassare le tasse sul lavoro se non simbolicamente perché non ha soldi ma lui dice che bisogna lavorare sull'aumento di stipendi e delle pensioni aggiungo dice Salvini che la profonda crisi dei grillini ha coinvolto anche il premier e rischia di aumentare le fibrillazioni caspita dicono sempre le stesse parole fibrillazioni questo governo non è nato per spalancare le porte ai 27.000 clandestini sbarcati fino ad ora attendiamo da tempo il patto fiscale per 20 milioni di italiani ostaggio di Equitalia e a gennaio non potremmo torrellare il ritorno alla legge Forneo per quanto riguarda i condoni fiscali a me quello dei condoni sembrano più mosse elettorali perché promettere a 20 milioni di italiani di cancellargli i debiti con lo Stato significa votami che io te li cancello ognuno ha le sue canne da pesca elettorali c'è quello con lo Iussoli c'è Salvini con le cartelle esattoriali c'è il Movimento 5 Stelle con il reddito di cittadinanza ogni partito ha la sua canna da pesca per pescare gli elettori naturalmente poi l'intervista è lunga vediamo se riesco a raccontarvela in un altro video ma sicuramente sì vedremo anche che cosa dice Meloni agli alleati un'altra minaccia di volere i suoi voti per fare altro vedremo cosa pensa la Meloni su Salvini e Berlusconi io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti e grazie grazie